Coom! A grande richiesta, oggi vedremo la maglia celebrativa del 120esimo anniversario del Real Madrid per la stagione 21-22, nella versione Player. Una reunion che celebra un comune anniversario, visto che il Real Madrid festeggia il 120esimo anno dalla propria vincente storia, mentre Adidas e Y3 la loro prima partnership vent'anni fa. In onore di entrambe le occasioni, quindi il brand di Yamamoto, torna a disegnare una maglia dei blancos, dopo il grande successo della terza maglia realizzata per la stagione 2014-2015. La quarta maglia è in tonalità All Black con accento in bianco, marchio di fabbrica del designer giapponese. Il logo Y3 e le tre stripes, i numeri da gioco e i nomi dei giocatori sono di colore bianco. La grafica è caratterizzata da linee dinamiche che si intersecano, simboleggiando l'unione tra moda e sport. Sopra l'orlo, l'etichetta Oversize completa in grande stile questa collaborazione speciale. Veramente favolosa! Mi avete in tanti suggerito questa maglia e devo dire che ne vale veramente la pena. Nella mia classifica questa prende 5 stelle, fatta bene, curata in ogni dettaglio, in ogni particolare. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare ad un prezzo bassissimo che trovate qua sopra. Vi ricordo che sul sito trovate anche sconti progressivi legati alla quantità e una spedizione velocissima. Ora, se la maglia vi è piaciuta vi prego di lasciare un like e di iscrivervi al canale per farlo crescere e per avere prossime recensioni in futuro. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg. Quella che vedete è una taglia large della versione player, la versione pensata per gli atleti.